Puoi essere sicuro che i tuoi clienti tornino sempre da te? Nel settore automobilistico, il servizio clienti e la ritenzione sono molto importanti. Quindi guarda questo! Ogni giorno i clienti hanno incidenti stradali e compilano un rapporto sugli incidenti. Di solito sono disordinati e illeggibili per via della scrittura a mano. È un peccato. Per questo abbiamo creato Crash Stickers. Stickers personalizzati per i rapporti sugli incidenti con tutte le informazioni necessarie. In caso di incidente, lo prendono e incollano semplicemente. I garage e i centri di servizio cercavano una soluzione per provvedere Crash Stickers ai clienti. Quindi sì, l'abbiamo fatto! Una soluzione di servizio completo che ti permette di mandare una lettera già compilata, Crash Stickers e il rapporto dell'incidente ai tuoi clienti in meno di 10 secondi. Immagazzineranno i Crash Stickers nel cruscotto e i tuoi contatti saranno accessibili in ogni momento nella loro macchina. Come funziona? Basta andare su www.crashstickers.com.retail Crea il tuo account e setta i tuoi file e dati. Invita i tuoi colleghi a scaricare l'app sul loro smartphone. Una volta installato, fai una foto chiara dell'assicurazione, inserisci l'indirizzo, clicca e vai! Tutto qui! Ci prenderemo cura del documento e della spedizione. Puoi stare sicuro che in caso di incidenti, la prima cosa che il tuo cliente vedrà è il tuo contatto. Crash Stickers. Semplice, veloce ed efficiente.